Tutto questo sommato al rientro di Francesco, al gol di Mattia e comunque alle sue condizioni che piano piano cominciano ad essere più ottimali per poter affrontare gli impegni agonistici. Tutte queste situazioni ci fanno essere ottimistiche e da adesso fino alla fine dell'anno queste due partite si potranno fare sia grandi prestazioni che speriamo anche risultati pieni. La tua parata? Bella, importante, ma guarda anche col Torino, adesso col Sassuolo c'erano state altre parate e la cosa più soddisfacente è che questa parata caratterizza il risultato e quindi ci può ottenere tre punti e diventa una cosa importante per la squadra che poi è l'unica cosa che conta. Perché sei stato ammonito? Ambrosini fa fallo su di me, è già ammonito, se fischia falla la norma di regolamento dovrebbe essere per la seconda volta ammonito e quindi espulso. Io semplicemente ho protestato in maniera plateale, tra l'altro poi ho fatto anche un passaggio sbagliato a Maicon e le mie proteste sono state quelle sì eccessive e giustamente ho preso il cartellino giallo, cartellino giallo che avrei dovuto prendere anche a Brasile però. Grazie.